salve gente due minuti una fragranza scelta per voi juicy watermelon della yankee per la categoria fruttate allora la descrizione ufficiale dice l'ultimo modo di ristorarsi in estate il dolce profumo rinfrescante di anguria succosa io le inserisco tra le diabetiche ed è una fragranza che è uscita a un anno fa a luglio del 2015 e quindi è una fragranza estivissima adattissima a questo periodo quindi se la trovate ancora in giro prendetela perché è chimica è una fragranza secondo me che ha una base chimica comunque non è un odore paragonabile alla vera anguria però è un pregio in questo caso perché mi ricorda un sacco l'odore il gusto l'odore dolce forse anche un pochino stomacchevole ma lei piace e del della della granita e può ricordare anche molto e le gomme da masticare all'anguria che sono proprio fatte quella d'anguria e ha una buona intensità io gli ho dato un voto 8 8 e mezzo in base appunto al punto in cui viene inserita inserita nell'ambiente questo io lo uso ovviamente tartizzato il bruciatore e credo che comunque il fattore ghiaccio richiami un pochino la freschezza della fragranza quindi è molto pertinente la fotografia il colore non ha da dire e ditemi se vi è piaciuta se l'avete provata mi raccomando seguite questo video e ne farò tanti altri sul gruppo candle universe italian edition tutti i link a riguardo li trovate nell'info box e alla prossima ciao